FUNZE! Oggi vi mostro come ottenere tantissimi baule in maniera gratuita Senza fare niente, senza spendere un soldo Mi raccomando, a fine video vi farò vedere come fare Oggi andiamo ad aprire tantissimi bauli, 30 di questi qua normali 2 più 1 di questi qua delle casse enormi Più iniziamo a fare un po' di evento speciale Iniziamo, mega pack opening Per la prima volta su questo canale in maniera totalmente gratuita Oggi, poi alla fine video vi farò vedere come fare, giustamente Prendiamo quella cassa enorme, sto giocando, siamo a 800 e spingi coppe Vai con la prima cassa, attenzione Monete, punta di energia per Jesse, via Punta di energia per il coso, punta di energia per il primo E niente, brawler nuovo Vai, prendiamo Ok, cassa brawler secca, via Nuovo brawler subito così e abbiamo Penny Brawler super raro, nuovo video in arrivo Li proveremo tutti Fatemi sapere se vi piace questo nuovo tipo di video Poi prendiamo l'evento speciale La sopravvivenza piana delle famme Piana della famme Che vedremo un po' poi com'è Ora andiamo ad aprirci 10 baule di questi qua subito veloci Monete Il telefono che squilla Colt È il primo e basta Ok, vai, altro, via Giro, giro, giro Monete, stecca Penny Basta Tristezza Monete Penny Penny È il primo Un biglietto degli eventi e basta Non so se qua si possono trovare dei brawler Nel caso non lo so Vediamo Aprimi Monete Shelly Primo Gem Attenzione, buono È tornato un momento di blocco Monete Jesse Pocho Basta Monete Stecca Penny E due paggettoni per due Non male Monete Stecca Nita Vieti degli eventi E la cuffia che se ne va Vai, altra Monete Primo Shelly E boom Apri Bombardino Attenzione Bombardino Brawler raro 3 di 3 Abbiamo completato Abbiamo tratto tutti i brawler rari Buonissimo Ok, vai con l'ultima cassa Monete Stecca Penny E basta Poi abbiamo Apriamo una cassa Una mega cassa Oh, così Dovevo aprirle Velocissimi Monete Spenni È il primo Dai Shelly E basta Vai con Gli altri 10 Via, via Cosa Bombardino Vai Monete Bombardino Colt Gettone Non male Via, altro Monete Punti Punti Per Jesse Basta Monete Punti Punti Dai, vuoi cercare il brawler Dai E dai E dai Punti Punti Colt Via Vai Mi servono i brawler A me Monete Punti Punti Biglietti per due Non male Magari mi piacerebbe fare una live sugli eventi Fatima sapere voi nei commenti Se vi può piacere come idea Monete Punti Punti Basta Ultime tre cose Poi Monete Punti Punti Basta Dai Ultimo brawler Monete Punti Dai Dai Punti Punti Niente Brawler Vai Ultima Mega Cassa Monete Punti Energia Quattro biglietti E basta così Purtroppo Vai Ultime dieci casse Via fuoco Niente di utile Solo tanto punti e monete Basta Niente di utile Mi sto riempiendo di monete Monete Punti Punti Via 840 Mamma mia Quante monete Mille monete Via Via Niente Dai Monete Punti Punti Niente Via Monete Punti Punti Via Niente Duma Monete Punti Punti Dai Ultimo brawler Ci mancano tre casse Dai Monete Per 22 Shelly Ti prego Dio Di Di Coso Di Come cacchio si chiama Questo giochino Brawl Stars Fammi trovare Un brawler nuovo Gemme Basta Monete Punti 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 Niente Ultima cassa Attenzione Ultima cassa Let's go Partiamo subito Ultima cassa Monete Punti energia Punti energia E basta La nostra fortuna Si conclude qua Purtroppo Abbiamo 1101 Non monete Possiamo potenziare Qualunque cosa Meno male Ora arriva il momento In cui vi spiego Come Arriva Come sbloccare Tutte queste Casse Volendo potete sbloccare Molto di più Se ci giocate Come il mio metodo Ora vi faccio vedere come Poche parole Siete pronti Vedete questi gettoni Qua in basso Vi danno i gettoni Se vincete le partite Se fate una partita Anche se perdete una partita Con quei gettoni Si sbloccano questi bauli E pian piano Otterrete tanti bauli Quindi Il primo metodo di questo qua Invece per il secondo baule È Vedete Certo gettone Che si chiama gettone stella Se vincete O fate una bella partita Vi danno gettone stella Quindi Ragazzi Giocate Non spendete soldi Perché intanto Che senso Spendere soldi in un gioco Fatemi sapere Se vi è piaciuto questo video qua È un po' ironico ovviamente Sono 836 cop Sto giocando tantissimo Mi sta piacendo Nulla Io vi dico Grazie per la visione Fatemi sapere Se volete Altri Video Pac opening Io metto da parte Pian piano i bauli Poi faremo un video Magari Ogni volta Una volta Ogni due settimane Dove apriamo i bauli E speriamo di trovare Qualunque cosa Vi ringrazio per la visione Sponciate Comentate con i video E attivate con la campanina Con i vostri amici Ciao ciao E Buon primo dell'anno Ecco Il primo dell'anno Si parta a bomba Speriamo Di fare le grandi cose Quest'anno Ciao 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 tenim Ciao!